Cari amiche e cari amici, voglio comunicarvi che è uscito il mio libro Meditazione e Tradizione oltre i confini della mente, edito dalla Settimo Sigillo. La specificità di questo libro è contenuta nel titolo Meditazione e Tradizione. Esistono centinaia, forse migliaia di libri sulla meditazione, esiste qualche decina di libri, come ad esempio quelli di René Guénon o di De Giorgio, sulla tradizione, ma questo è l'unico libro che ci parla di meditazione inquadrata nella tradizione. Quindi la meditazione che si rifà alla tradizione primordiale e si distacca da tutte le forme di meditazione proposte dalla New Age, che in realtà non sono altro che volgari contraffazioni. Potete trovare questo libro in Amazon, su IBS o richiederlo direttamente alla casa editrice Settimo Sigillo, www.settimosigillo.it. Il libro costa 20 euro, è di poco più di 200 pagine ed è estremamente scorrevole e ricco di consigli per chi intraprende un cammino autentico di meditazione. Contiene anche molte storielli, aneddoti e paraboli tratte dalle varie tradizioni e dalle varie culture. Dunque è un libro che vi consiglio vivamente perché è stato da me scritto proprio nel tentativo di aiutare le persone a meditare e soprattutto a distaccarsi dalle contraffazioni della New Age. Buona lettura a tutti. Marco Cosmo